Questo è un brevissimo video dimostrativo della Corsair Air 540 appena uscito in commercio, è un cabinet davvero molto particolare perché è fondamentalmente quadrato. Ci sono numerosissime particolarità tecniche che abbiamo già esplicato appunto nella recensione. Nel complesso è un modello che ci ha colpito innanzitutto per quanto riguarda la funzionalità, perché è davvero estrema. Permette un'installazione di numerose componenti all'interno, tra cui una configurazione a doppia scheda grafica classica, doppi hard disk hot swap, ma soprattutto permette una funzionalità davvero notevolissima. Questo è il sistema assemblato ed ovviamente, un attimo che mettiamo una paratia da parte, questo è il sistema assemblato e quindi, come si può notare, c'è uno spazio davvero gigantesco. Questo signori è davvero eccellente perché il fatto di avere uno spazio così grande tra il limite superiore della scheda madre e la parte superiore del cabinet permette una... ed è davvero di una praticità mostruosa nelle fasi di assemblaggio. Ad esempio uno dei problemi principali è l'allaccio del connettore ps12 volt per l'alimentazione supplementare della cpu, in questo caso perfetto, fantastico. Doppio sistema di cablaggio laterale, in questo caso questa è una scheda EATX, quindi schede ATX normali arriveranno fino a questo limite sostanzialmente, quindi non verrà occupata quella predisposizione. Cosa possiamo dire? La ventilazione è molto valida in quanto sono presenti due ventole da 140 mm con un canale di ventilazione diretto ed una ventola a 140 mm posteriore. Nel nostro test le abbiamo regolate assieme e quindi sono tutte e tre a 1200 rpm. I risultati termici sono stati ben al di sotto delle aspettative, ma questo è possibile che sia tale sia per la configurazione che è molto estrema rispetto ad altre recensioni su internet ma soprattutto per via del posizionamento del sensore. L'unico posto in cui è possibile posizionarlo rispetto alle nostre passate recensioni è questo e queste sono le temperature quindi che sono uscite fuori rapportate alle altre delle nostre piattaforme dei test. Comunque sia è possibile installare altre ventole nella parte superiore ed è possibile eventualmente potenziare le due ventole frontali, comunque sia non c'è assolutamente necessità di farlo perché comunque sia è un cabinet che è davvero molto funzionale. Cosa possiamo dire della parte posteriore, anzi laterale destra? Questo è il cablaggio finale del cabinet. Allora, innanzitutto possiamo notare che c'è un grandissimo spazio e questo è un elemento davvero notevole in quanto l'assemblaggio degli SSD e delle periferiche da 2.5 pollici è sensazionale, ci si mette davvero un secondo. L'assemblaggio delle periferiche da 5.25 pollici è ottimo anche se in questo caso il fan controller fobia tende a sciacquare. Purtroppo è un problema che potrebbe essere di peso dallo spessore del frontalino o forse dalla procedura di fissaggio della parte superiore del fan controller perché sarebbe stato necessario smontarlo, procedurale leggermente complesso. Comunque sia non ci sono problemi di sorta, il cablaggio, il posizionamento dei cavi nella parte inferiore è eccezionale perché permette davvero una connessione immediata da notare che non c'è un singolo connettore che sporgi. E per quanto riguarda lo spessore qui abbiamo circa tanto così. Ovviamente verrà quantificato in centimetri nella recensione vera e propria scritta. L'alimentatore è un FSP da 1kW, Aurum Pro. È un alimentatore abbastanza lungo, però come vedete c'è ancora spazio qualora fossero utilizzati i modelli più impegnativi e lunghi. Ad ogni modo già un alimentatore del genere, Corsair, ne fa di eccellenti modelli, ad esempio la serie AX-E Digital, quindi non ci saranno problemi di sorta. Compatibilità massima per quanto riguarda dissipatori all-in-one, ad esempio Corsair H100i, addirittura H110, 280 mm di radiatore davanti. Spettacolo, signori. Bene, commentate la recensione, fateci sapere cosa ne pensate, il cabinet per noi è davvero eccezionale.